Quando ha visto arrivare la volante della Polizia di Stato, ha provato a defilarsi, ma è stato comunque raggiunto, identificato e perquisito. Nella borsa tracolla, gli agenti hanno così trovato quattro involucri in cielo, fan con dentro cocaina. È successo sabato pomeriggio in via Vittorio Veneto, nel quartiere di Saione. Per l'uomo, un tunisino di 57 anni, non regolare sul territorio italiano e con diversi precedenti per spaccio, è così scattata anche la perquisizione domiciliare. Proprio in casa, i poliziotti hanno trovato altro materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione del denaro in contanti ed un altro involucro con dentro 15 grammi di cocaina. Per il 57enne sono così scattate le manette per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio, mentre la droga è stata posta sotto sequestro.